Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo risolvere la seguente equazione frazionaria. 1 fratto x al quadrato meno 4 più 1 fratto x al quadrato più 2x uguale 3 fratto x al quadrato meno 2x. Cominciamo innanzitutto a ricordare che la strategia fondamentale per risolvere un'equazione frazionaria è quella di ricondurla a un'equazione intera moltiplicando i due membri dell'equazione per il minimo comune multiplo dei denominatori. Tale passaggio è lecito pur di definire le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche che compaiono nell'equazione. Infatti il secondo principio di equivalenza richiede che l'espressione per cui si moltiplicano i due membri di un'equazione sia sempre diversa da zero per ogni valore dell'incognita. Quindi, una volta poste le condizioni di esistenza di queste frazioni algebriche, sappiamo con certezza che, moltiplicando i due membri di questa equazione per il minimo comune multiplo dei denominatori, tale espressione è sempre diversa da zero per ogni possibile valore dell'incognita x. Risolviamo adesso il nostro esercizio. Innanzitutto, si determinano le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche che compaiono nell'equazione. Quindi, iniziando dalla prima, poniamo x al quadrato meno 4 diverso da zero. Da qui si ha, scomponendo il primo membro, x-2 per x più 2, differenza da due quadrati, diversa da zero. E quindi, se ricordiamo la legge dell'annullamento del prodotto, si ha x diversa da 2 e x diversa da meno 2. Ricordiamo, infatti, che un prodotto è uguale a zero se e solo se almeno uno dei suoi fattori è uguale a zero. Quindi, affinché il nostro prodotto sia diverso da zero, devono essere necessariamente diversi da zero x-2 e x più 2. x-2 è diverso da zero se x è diversa da 2. x più 2 è diverso da zero se x è diversa da meno 2. Affinché l'intero prodotto sia diverso da zero, deve risultare x diversa da 2 e x diversa da meno 2. Andiamo avanti e poniamo x al quadrato più 2x, cioè il denominatore della seconda frazione algebrica, diverso da zero. Da qui si ha, se scomponiamo il primo membro, x che moltiplica x più 2, stiamo raccogliendo la x, diverso da zero. E, per ragioni del tutto analoghe a quelle già viste in precedenza, x diversa da zero e x diversa da meno 2. Infatti, devono essere contemporaneamente diversi da zero sia x sia x più 2. Infine, poniamo x al quadrato meno 2x, che è il denominatore della terza frazione algebrica, diverso da zero. Da qui si ha x che moltiplica x meno 2, raccogliendo la x al primo membro, diverso da zero. E quindi x diversa da zero è x diversa da più 2. Infatti, devono essere contemporaneamente diversi da zero sia il fattore x sia il fattore x meno 2. Mettiamo adesso un po' d'ordine sullo schermo e, cancellando i calcoli fatti, lasciamo soltanto le condizioni di esistenza. Si ha x diversa da 2 e x diversa da meno 2, x diversa da zero e x diversa da meno 2, x diversa da zero e x diversa da più 2. Adesso, visto che queste condizioni di esistenza devono essere verificate contemporaneamente, esse possono essere riassunte nelle seguenti. Condizioni di esistenza x diversa da zero e x diversa da più o meno 2. Andiamo avanti e vediamo cosa fare. Ci si riconduce a un'equazione intera moltiplicando i due membri dell'equazione per il minimo comune multiplo dei denominatori e si risolve l'equazione così ottenuta. Cominciamo quindi a calcolare il minimo comune multiplo tra x al quadrato meno 4, x al quadrato più 2x e x al quadrato meno 2x. Possiamo scrivere, come già visto in precedenza, x al quadrato meno 4 nel seguente modo come x meno 2 per x più 2. Ancora x al quadrato più 2x possiamo scriverlo come x che moltiplica x più 2. Infine, x al quadrato meno 2x. Possiamo scriverlo come x che moltiplica x meno 2x. Quindi il minimo comune multiplo tra questi denominatori è il seguente. x che moltiplica x più 2 ancora per x meno 2. Quindi l'espressione è x per x più 2 per x meno 2. Attenzione, quando sono verificate le condizioni di esistenza, quindi quando x è sicuramente diversa da 0 e diversa da più o meno 2, l'espressione x per x più 2 per x meno 2 è sicuramente diversa da 0. Quindi a questo punto è possibile applicare il secondo principio di equivalenza per le equazioni e moltiplicare ambo i membri della nostra equazione per x per x più 2 per x meno 2. Il risultato è il seguente. x per x più 2 per x meno 2, che è il minimo comune multiplo determinato, che moltiplica il primo membro e il secondo membro della nostra equazione. L'equazione equivalente è la seguente. x per x più 2 per x meno 2 per 1 fratto x al quadrato meno 4 più 1 fratto x al quadrato più 2x uguale x per x più 2 per x meno 2 per 3 fratto x al quadrato meno 2x. Se adesso applichiamo al primo membro la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione, si ha x per x più 2 per x meno 2 che moltiplica 1 fratto x al quadrato meno 4. Quindi x per x più 2 per x meno 2 fratto x al quadrato meno 4 più, allo stesso modo, x per x più 2 per x meno 2 che moltiplica 1 fratto x al quadrato più 2x. Tutto questo è uguale a x per x più 2 per x meno 2 fratto x al quadrato più 2x uguale al secondo membro che rimane come x per x più 2 per x meno 2 per 3 fratto x al quadrato meno 2x. Adesso riscriviamo la nostra equazione scomponendo i denominatori delle frazioni algebriche. Si ha x per x più 2 per x meno 2 fratto al posto di x al quadrato meno 4 scriviamo x più 2 per x meno 2 più x per x più 2 per x meno 2 fratto al posto di x al quadrato più 2x scriviamo x per x più 2 uguale x per x più 2 per x meno 2 per al posto di scrivere 3 fratto x al quadrato meno 2x scriviamo 3 fratto x per x meno 2. Adesso possiamo semplificare al primo membro x più 2 con x più 2 e x meno 2 con x meno 2. Ancora x con x e x più 2 con x più 2. Al secondo membro invece possiamo semplificare x con x e x meno 2 con x meno 2. Il risultato è la seguente equazione x più x meno 2 uguale 3 per x più 2 da qui si ha al primo membro 2x meno 2 uguale al secondo membro 3x più 6. Adesso usando il primo principio di equivalenza per le equazioni possiamo trasportare meno 2 dal primo membro al secondo invertendo nel segno e allo stesso modo 3x dal secondo membro al primo pure invertendo nel segno si ha 2x meno 3x uguale più 2 più 6. Se adesso sommiamo i termini simili si ha al primo membro meno x e al secondo membro più 8. Adesso applichiamo il secondo principio di equivalenza per le equazioni e moltiplichiamo per meno 1 ambo i membri della nostra equazione. Si ha la soluzione finale che è x uguale meno 8. Il nostro esercizio però non è ancora terminato, infatti dobbiamo ricordare che abbiamo posto inizialmente delle condizioni di esistenza. Quindi adesso si confrontano le soluzioni trovate con le condizioni di esistenza e si scartano le eventuali soluzioni che non soddisfano tali condizioni. Nel nostro caso l'unica soluzione trovata è x uguale meno 8. Le condizioni di esistenza sono x diversa da 0 e x diversa da più o meno 2. x uguale a meno 8 effettivamente è diversa da 0 ed è diversa da più o meno 2, quindi una soluzione accettabile per la nostra equazione. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara vi ringrazio per averla seguita.